È difficile per tutte le attività imprenditoriali. Qui a Brindisi, come nel resto del paese, ovviamente eravamo già reduci del lockdown di marzo. Qual è la soluzione in questo momento per resistere? La soluzione la stiamo cercando un po' tutti insieme. Io sono qui per manifestare la mia vicinanza e quella dell'amministrazione che ovviamente comprende le difficoltà causate ai commercianti, ai ristoratori, da queste norme del DPCM. Purtroppo, come visto anche oggi, la linea dei contagi aumenta, per cui qualche decisione va affrontata. Però, sinceramente, qui bisogna essere molto vicini a chi sta soffrendo, pensando però che non si può andare l'uno contro l'altro. Il vero nemico, a mio avviso, è il Covid. Non è il garantito, non è l'altro commerciante che sta aperto, non è l'amministrazione, le varie amministrazioni. Il vero nemico è il Covid, quindi tutti insieme dobbiamo stare vicini per superare questo grave momento.